Con lo sviluppo post-covid del turismo di prossimità si è registrato una forte crescita degli automezzi in transito sulle autostrade siciliane. Da domani bollino rosso per tutto il weekend. Le previsioni per il traffico stradale segnalano che le stesse condizioni si riproporranno quasi certamente anche in altre giornate del mese di agosto. La A18, Messina Catani e la A20, Messina Palermo, si preparano dunque ad essere particolarmente trafficate specialmente nelle ore di punta, dando vita anche a lunghi incolonamenti qualora si verificassero incidenti stradali. Si rende necessario dunque utilizzare tutte le misure di prevenzione e sicurezza per contenere il fenomeno. È indispensabile guidare secondo la velocità prevista dalla legge, prestando attenzione allo stato di guida, alle condizioni meteorologiche, alla circolazione stradale e alla visibilità. Una vera e propria piaga è l'utilizzo dei telefonini in macchina, abitudine pericolosissime e difficile da estirpare. Anche una sola occhiata al cellulare tolta alla strada può essere fatale. Per quel che riguarda i cantieri e autostrade siciliane ne sta rimuovendo la maggior parte con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti sulla A18 e sulla A20. Poi sono state incrementate le squadre di soccorso dislocate su tutta la rete. Nel frattempo si sta portando avanti un progetto di messa in sicurezza e modernizzazione che negli ultimi due anni ha dato vita ad un fitto programma di controllo, monitoraggio strutturale e manutenzione straordinaria che non si è fermato neanche durante il lockdown. Oltre 200 gare d'appalto di lavori e servizi per un investimento di circa 350 milioni di euro. Ma c'è ancora tantissimo da fare. Si raccomanda infine dove è possibile programmare partenze intelligenti ed informarsi in tempo reale sul traffico, sui canali del CIS, Iso Radio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio Rai e sul Televideo Rai e su Google Maps.